fermo il coglione tiè oh conta fermo ah non me la prendi tieni no 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 non è doppio elemento stavo scherzando prima però guarda gli elementi che c'ha mamma mia non lo sa eh mi serve per scambiare non lo sa ma te anche uno mi ricordo anzi vabbè fa bene poi tiè guarda tiè non la uso dai te la regalo guarda elemento acqua me non provo da vero c'è la mamma mia lascio per scambiare l'evento acqua me dovresti da qualcosa la sprega dopo vedresti da qualcosa la macchina da scrivere macchina scrive mi piace a me per il mio avvento ma con il mio l'arma mi vuol dire si tratta no a troppo meno una scala posto 106 dai c'è sta non c'è non c'è non c'è ti toglie ti toglie ti toglie ti toglie ci non ti toglie 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 mi servono le barche meccaniche lucide aspetta come sono fatte me troppi una per vedere come è fatta qui aspetta queste no queste queste no aspetta no non è questo no non c'ho quale di neve c'ho queste c'ho questi quindi un po' ce n'ho 18 no ma niente che vorresti da allora credo che progetto c'hai non così non posso dimmi un progetto che c'hai dai ma poi l'obb bella apparizione 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 della vita apprezzato la vita abilazione messa abilizio 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 dai 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 la via si ma che servono aspetta te lo dico tu una una vuol bere da sparo quante 7 quanti sono 15 eh sono 13 10 falle poi le parti meccaniche resistenti tieni mi servono le parti meccaniche resistenti quali sono quelle che ho buttato prima quante le servono 3 oh non ci credi? non trovo foto tieni no 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 resistenti non resistenti resistenti ah ce n'è 18 vabbè dai fa vabbè dai fammi nere dai ma 30 ma che ti vede caso ci perdo pure dammi la malattia dammi la malattia c'era una dai mamma mi sarebbe te lo fa te lo giuro te lo giuro te lo giuro vedete vedete te lo fa dai ma ne ha perso tanta roba oh c'ho perso pure perchè l'elemento acqua non è che se da così facilmente se lo vuoi capito ci perdo io vabbè agieni dai non piangi vai quante ne so c'è c'è la malattia ti vede no vota una ce l'ho io grazie 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 si sa se è vero o meno nessuno saprà mai se è vero più io ti vedo ragazzi io ti vedo ragazzi io ti vedo dai come bobcat mi sta a piangere quanto ora 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 non c'è parole l'apparizione l'ho detto e te che fai vabbè troppo dai troppo l'apparizione vabbè l'apparizione no 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 dammi a bobcat dai a che modo eh bobcat bobcat però l'apparizione senta che sta a finire questo sbrigati 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 sto coglione vai stai scambio con lui scambio con lui vai vieni madridana vieni 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 dammi la fonta no 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 fonta mami ho pure usata dove sta Mamma mia che schifo Non c'ha niente elemento Mamma mia Ma hai truffato con te Ma hai truffato C'ha due elementi Una merda Una merda Spara voi Una merda Guarda c'è te Kiko Ma hai Kiko C'è poi la partita C'è anche te Kiko I zombie livello 6 Mamma mia che ricordi Dove è che il mio bimbo Non sono sempre stato forte Comunque manco un mese Già Già livello 105 C'è un bimbo Non c'è un bimbo Marco tira fuori Manco guarda dice Mi sono voluto stare Guarda Guarda mamma mia, vada, vada a basso mi gravano, a basso ma c'è il passato bello sto lama contà, quell'arma è totato, non l'ho usata tanto? no ma è che ha voluto il mattone chi? ma è che ha voluto il mattone vuoi scambiare, vuoi scambiare, vai dai dai bro palle sto nampo oh oh oh, regali atlanti che coglione Marco qui non dice niente, sta di iscritti ma non leggi, non leggi ma io sto scambiando guarda le grazie, guarda le grazie cioè sta perdendo coi zombie di L5 ma è che stanno, bro sta a fare zero, bro perché è zero quando lo chiudete ecco che mhm qua è baggare Torno cioè later montà è forte sta arm vario Macello Quanta c'è lo sta Oh Fanta che è qua Ma perché fa la videochiamata? Oh stai nei zombie qua Boh Mi sto giocando Montavi un attimo Ho sto piccone a livello 50 58 elemento natura Si chiama lancia tubo a vuoto Dove sta? Non ce l'ho più regà Dove sta? Regà mi si è baggato Non c'è il piccolo in mano Non c'è il piccolo in mano Non possiamo costruire Dai È molto piccone che ce l'ha Non c'è il piccolo in mano D'è così? No vieni tu La ragazza è roma E ora? La ragazza è roma Si è qua sotto la rega 1 come volo via Oh no? Contami lo vieni qui sotto Come so Come so questo? Vedi un po' Vapi qua Non me apri A mattone A questo mattone Do sta sto piccone Non c'ho a fare olio Ma che piccone Gli ero c-58 era Non ce l'ho più Da montala presa te Montala presa te dai Non c'ho più piccone Paglio Eh 60 E no pulper che Elemento natura Vabbè ho perso dai Sti cavoli Vabbè 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 l'unico ma io voglio sembrare a me scare l'unico l'acqua vediamo parli per se si è caricata vittoria livello 104 quasi 3 rega sto pubblica il video con tavace ma grazie eeeh metta me dopo ora metto subito del like vabbè il commento non sai qual è no oh tu favo due volte la bella cosa guardare il video rio ma dai un po' avanti si già una visualizzazione chi sarà mai non lo vedo il video tuo non lo vedo il video in che senso come hai messo tu che vuol dire no non me l'ha, perchè non me l'ha caricato perchè due minuti 31 raga nooo non me l'ha caricata che palle c'è una bella madre non mi ha detto che sei un po' tardi questo cosa non è da un'ora sto giocando aspettare se ci attenzione regalo non ma troppo non ma ma non 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 ma